Professore Sarsi-Puttini, quali sono le novità per il trattamento e la terapia della fibromialgia? Grandi novità in questo momento non ce ne sono, però bisogna dire che si sta lavorando molto in questa direzione. I dati forse più interessanti ci vengono, dal punto di vista farmacologico, dalla cannabis, perché l'utilizzo del cannabinoide in effetti è un'arma in più rispetto a quelle che già avevamo, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto dell'ansia e della fibrofog, cioè dei disturbi neurocognitivi. E' una terapia che viene di solito ben tollerata, anche se come al solito, come in queste patologie, non in tutti i pazienti è ovviamente efficace. E gli altri aspetti vengono da alcune tecniche, come ad esempio quella della camera iperbarica, che sostanzialmente ci sta dando e ci sta facendo capire che anche attraverso un cambiamento dell'ossigenazione del nostro corpo è possibile modificare le aree che in qualche modo sono iperattive o ipoattive in corso di fibromialgia e questo ovviamente può risettare la nostra percezione del dolore. Ecco, questa è una via che ovviamente è stata intrapresa anche con tecniche di stimolazione transcraniale, cioè ci sono varie metodiche che potrebbero aiutarci, diciamo, e affiancarci a quelle che sono le strategie classiche, che sono soprattutto gli aspetti non farmacologici, cioè l'esercizio e le terapie psicologiche o psicoeducazionali, e ovviamente l'uso dei farmaci, che però rimangono ovviamente un supporto ma non una soluzione del problema ed è questo su quale stiamo lavorando. Noi come associazione abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo tecnico proprio per definire quelle che sono le linee guida, per poter affidare alcuni farmaci, alcuni esami particolari, visto che, come dico sempre, la nostra è una patologia che si fa diagnosi di esclusione, quindi abbiamo tanto bisogno quantomeno andare in esenzione proprio per agevolare i pazienti. Ci hanno ascoltato, sembra che ci stiano ascoltando, quindi aspettiamo veramente fiduciosi di essere convocati per poter partire questo lavoro, che sarà naturalmente non semplice per carità, però porterà sicuramente i suoi frutti. Noi come associazione, io rappresento tutti i pazienti, ce la stiamo mettendo tutta, stiamo lottando e non ci arrenderemo sicuramente, quindi mi sento oggi di essere molto ottimista e di essere veramente molto fiduciosa che finalmente possa essere data una dignità a questa nostra malattia che è fortemente invalidante purtroppo. Credo che sia un peccato non avere il riconoscimento di questa malattia che ormai è riconosciuta in tutto il mondo ed è nelle linee e nei criteri classificativi di tutte le patologie e sindrome dolorose croniche, soprattutto perché il paziente in questo modo avrebbe, non dico la propria etichetta, ma non serve più malato immaginario e credo che questo, soprattutto in ambito familiare, in ambito lavorativo e sociale, sia molto utile. Se poi fosse possibile anche un supporto da un punto di vista, chiamiamolo economico, per terapie che spesso il paziente si fa carico integralmente, proprio perché manca il riconoscimento, per cui la possibilità di creare un PDTA, che sarebbe un percorso diagnostico-terapeutico, che in qualche modo sia sposato dal nostro sistema sanitario e speriamo non soltanto da alcune regioni, come capita adesso, perché in effetti il vero problema è che il nostro sistema sanitario si sta splittando in 21 sistemi sanitari e questo per chi, come noi, cerca un riconoscimento uniforme è un problema. Grazie a tutti.